Ciao, sono Massimo Martinini di Pillole di Business e oggi voglio parlare di quanto i tuoi clienti siano importanti, anche se forse non te ne rendi ancora conto. Perché i clienti sono così importanti? Punto numero uno, perché qualunque tipo di azienda, qualunque tipo di attività non può prosperare e crescere senza clienti. Quindi i clienti sono la benzina della nostra azienda, questo è un punto fondamentale. E proprio per questo ho una visione, diciamo, leggermente diversa rispetto alla norma, ovvero che i nostri clienti sono molto più importanti del nostro prodotto, del nostro servizio. In che senso? Innanzitutto nel mercato di oggi per prosperare e crescere abbiamo bisogno di un prodotto servizio eccellente. Questo è un dato di fatto, con un prodotto scarso, mediocre, non riusciremo sicuramente a prosperare e crescere nel lungo periodo. Quindi questo è il punto di partenza, quindi non sto assolutamente dicendo che il prodotto non sia importante, anzi, il punto è che oramai è diventato lo standard minimo, nel senso un prodotto eccellente e il minimo che possiamo offrire al mercato. Detto questo, da imprenditori, ciò che non dobbiamo fare è quello di innamorarci del nostro prodotto, quindi credere che il nostro prodotto sia il migliore in assoluto e non capire come sia possibile che i clienti non lo capiscano, tutt'altro dimenticarci di questo, ma iniziare a ragionare dal punto di vista dei clienti, quindi ascoltarli, trattarli al meglio e chiederci come, grazie al nostro prodotto o servizio, i clienti possono trarne beneficio, perché la chiave per crescere poi è tutta qui. Nel momento che iniziamo ad ascoltare i nostri clienti, riceveremo dei consigli e dei suggerimenti, capiremo se qualcosa è andato storto e potremo con il tempo perfezionare il nostro prodotto, perché anche se molti imprenditori credono che il loro prodotto sia perfetto, non è vero, nel senso che non esiste limite alla perfezione, si può sempre migliorare, di conseguenza ascoltare i nostri clienti e cercare di dare sempre il meglio per loro, ci permetterà di migliorare anche il nostro prodotto o servizio. Quindi oggi voglio farti questa domanda. Innanzitutto, i tuoi clienti sono felici di comprare da te? Perché se la risposta no è un problema. Io sono sicuro che ti è successo più e più volte di aver comprato qualcosa, magari aver lavorato con un artigiano. Ora il settore in realtà è irrilevante, però ti è sicuramente capitato di avere un rapporto commerciale con qualcuno, comprare insomma qualcosa da qualcuno e non essere stato assolutamente soddisfatto di questa transazione. Quindi magari in alcuni casi della relazione, se è andato in un ristorante il cameriere si è comportato male. Ecco, in una situazione del genere, anche se tu hai mangiato divinamente, è probabile che solo per questo fatto, perché magari ti hanno mancato di rispetto, ti hanno risposto male, eccetera, tu abbia messo una X sopra a quel ristorante e non ci siamo più tornato. Questo è un problema. Dal punto di vista imprenditoriale è un problema gigantesco. Per questo noi dobbiamo assolutamente mettere i clienti al primo posto, perché solo con la soddisfazione dei clienti la nostra azienda potrà crescere, 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 sviluppare e prosperare mese dopo mese. E il prodotto diventa, se lo vediamo sotto quest'ottica, marginale, nel senso diventa secondario. Quindi il prodotto eccellente è la base, ma dobbiamo concentrarci sui clienti, ascoltarli, trattarli al meglio, perché i clienti sono la nostra vera ricchezza. Quindi chiediti innanzitutto se i clienti sono contenti di acquistare da te, perché se non lo sono devi assolutamente rimediare a questo. Due, chiediti come puoi fare per renderli ancora più soddisfatti. Iniziando a porti queste domande e a cercare delle risposte, il tuo business crescerà inevitabilmente e naturalmente. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, queste sono delle tematiche che affronto nel mio corso capolavoro Business Architect, per cui se è un argomento che ti affascina, se è un'attività, vuoi farla crescere, senti davvero un potenziale incredibile, ma non riesci, diciamo, a scaricarlo a terra. Magari non sai da dove partire, non sai come riordinare le idee, ecco, allora quello è il corso che davvero può fare per te. È impegnativo, sono 18 ore di corso, super concentrate, che dal mio punto di vista, e lo credo sinceramente, ti apriranno la mente veramente come nemmeno immagini. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao! Ciao!